Non lo so, nel modo più assoluto no. Non è vero, questa qui è una cosa orribile, certo che ci va. Non so cucinare, non lo so. C'è sai chi c'è la mente e chi no. Questione dei gusti, io amo assaguro col pepe per esempio, penso proprio che non ci va. La cipolla va dappertutto, a prescindere. No, non ci va. Sì, ci va. Sì, sì, ci va. La carbonara va assolutamente senza cipolla. La cipolla e la panna, come l'ho mangiata qualche volta, sono cose orribili. Invece ci va. Ci dica la sua ricetta. No, io non ce la metto, ci metto l'aglio. Però io siccome vedo pure Antonella Clerici, che ci sono una cosa dei cuochi, e ci va la cipolla. La carbonara, sì, ci va la cipolla. Però a me non mi piace. Beh, faccio queste domande signora. Sì, mi dica, mi dica. Sì, mi dica, mi dica.